Prosegue la campagna elettorale dei candidati alle europee in vista delle elezioni dell'8 e 9 giugno. La vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picerno è intervenuta a San Martino Valle Caudina evidenziando la battaglia per il sud condotta dagli scranni di Bruxelles. Bisogna ripartire utilizzando al meglio le risorse che già esistono e che già l'Europa mette a disposizione della nostra regione, del nostro mezzogiorno e contrastare un'idea sbagliata di messa in discussione delle ragioni del nostro mezzogiorno. Raffaella Docimo, candidata di Fratelli d'Italia, spiega quale idea di sanità porterà in Europa. Una sanità che sia omogenea, uguale per tutti, una sanità che non conosca la fuga dei cervelli e che non conosca la fuga degli studenti in formazione. L'europarlamentare Piernicola Pedicini, candidato di pace, terra e dignità, sottolinea quanto sia importante la consapevolezza dell'azione dell'europarlamento. La mancanza di consapevolezza rende schiave le persone che non sanno che potrebbero avere un impatto davvero importante votando in maniera consapevole, sapendo che ci sono forze politiche che rappresentano i loro bisogni e che non tutti quanti sono proiettati nella stessa direzione. Giuseppe Sommese, presidente della prima commissione permanente della regione Campania, candidato per azione, lancia la sfida a favore dei giovani. Siamo concentrati, vedendo gli ultimi dati che registrano 3 milioni di giovani del sud che hanno abbandonato questo territorio negli ultimi anni, a mettere in campo politiche serie che possano trattenere le nostre eccellenze. Il parlamentare di Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, intervenuto a Pozzuoli per un sopralluogo post-terremoto, ha chiesto al ministro Musumeci di intervenire sull'area. Non prevedere fondi per questa situazione è un atto di ostilità lentissimo nei confronti del sud.